Gentili telespettatori, buona giornata, lo avete visto nell'immagine di copertina, Salvini con la Tesla bloccato sul ghiaccio. Ma è un sosia, è un sosia, e il ministro fa finta di infuriarsi perché è tutta pubblicità. In effetti ci assomiglia abbastanza, nel video si vede un sosia del ministro delle infrastrutture, o il ministro delle infrastrutture che è un sosia di questo che vediamo nel video, perché insomma, poverino, tu sei il sosia di Salvini, no? È Salvini che è il mio sosia, va bene. A parte di scherzi, il falso Matteo Salvini sale, scende, sale da una Tesla modello Y che è rimasta bloccata sul ghiaccio dopo avergli messo le catene. Il filmato, dopo essere diventato molto virale, è stato ricondiviso dallo stesso ministro che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Si inventano pure video falsi, pur di attaccare me e la Lega. Tra l'altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla, quanta paura facciamo a certa gente. Salvini fa finta di arrabbiarsi, è tutta pubblicità. E Salvini ringrazia l'imitatore, o non è che è un imitatore nato così, cosa deve fare? Arrivederci a tutti e grazie.